E' pronta a ripartire Sport Management che entro giugno riaprirà gli impianti di Cremona. Ricominceranno così tutte le attività, comprese quelle agonistiche ovviamente nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. In un comunicato l'azienda veronese anticipa l'intenzione di far recuperare gli abbonamenti, gli ingressi e i corsi non usufluiti durante la chiusura. Questo spiega la dirigenza come atto di pieno supporto alla clientela nonostante l'aumento indiscriminato dei costi dovuto ad esempio alle operazioni di sanificazioni e gli obblighi sull'accoglienza ridotta delle strutture con conseguenti minori ingressi ricada unicamente sul gestore. I dettagli dagli orari di apertura e le modalità di accesso agli impianti cremonesi saranno comunicati a breve, si pensa però a fine o a metà del mese. Infatti al momento sono in corso da parte del Comune opere di rifacimento del solaio.